Sindaco, dopo l'inaugurazione di un nuovo asilo nido, oggi torna a suonare la campanella per circa 9.000 studenti. Com'è andata? È andata molto bene. Noi abbiamo 60 scuole tra pubbliche e private di primaria e secondaria, di primo grado, insistenti nella nostra città. Le lezioni sono iniziate in sicurezza, in quanto stiamo investendo fondi del PNRR per l'efficientamento energetico e la sicurezza non solo degli spazi interni, ma anche degli spazi esterni alle scuole. Finora abbiamo 4 milioni di euro da utilizzare, in parte già utilizzati e in parte da utilizzare nei prossimi due anni. Abbiamo avuto un rientro a scuola privo di quelle prescrizioni a cui abbiamo dovuto sottostare giustamente per la pandemia nei due anni precedenti. Quindi un migliore stato d'animo da parte sia degli studenti che degli insegnanti, del personale amministrativo e ATA. Quindi un bilancio estremamente positivo per il primo giorno di scuola e mi corre l'obbligo ovviamente di augurare, di fare un augurio di buon anno scolastico a tutti. Sempre in ambito scolastico c'è il problema trasporti, in quanto da diversi anni il Comune non riesce a garantire uno scuolabus e ad oggi non sono ancora attive le corse bis della panoramica. Cosa ci può dire in merito? Per quanto riguarda la scuola bus e quindi il trasporto che era stato eliminato dal mio predecessore di primio, sempre per gli stessi motivi che attanagliano l'attuale amministrazione, cioè quella da me condotta. In pratica il deficit finanziario e la incapacità finanziaria di poter determinare questo servizio. Intanto abbiamo ottemperato alla possibilità del trasporto di disabili attraverso un pulmino che ci è stato donato e che quindi sarà pienamente funzionante, ripeto, solo per i disabili. Per quanto riguarda l'altra fetta di studenti, con il bilancio di previsione troveremo il modo per soddisfare anche questa esigenza.